Parliamo di malattie neuromuscolari, un argomento molto complesso che suddivideremo in più registrazioni. Innanzitutto partiamo con una differenziazione di quelle che sono le varie tipologie di malattie neuromuscolari. In primo luogo abbiamo malattie che colpiscono il moto neurone, poi quelle del nervo periferico, quelle della giunzione neuromuscolare e infine quelle del muscolo. Per quanto riguarda quelle del moto neurone parliamo di malattie del moto neurone, che sono nell'ordine la sclerosi laterale primaria, l'atrofia muscolare spinale, la paralisi bulbare progressiva e la sclerosi laterale amiotrofica. Per quanto riguarda le neuropatie periferiche parliamo appunto di mononeuropatie, multineuropatie e polineuropatie, quindi mono, multi e polineuropatie. Per quanto riguarda l'aggiunzione neuromuscolare parliamo di miastenia gravis e infine per il muscolo delle appunto cosiddette miopatie, che possono essere ereditarie e si parlerà di distrofie oppure miopatie acquisite. In questa prima registrazione ci occuperemo delle malattie del moto neurone. Di fatto sono malattie che colpiscono il sistema del moto neurone a vari livelli. Per esempio la sclerosi laterale primaria colpisce il primo moto neurone corticale. L'atrofia muscolare spinale colpisce il secondo moto neurone spinale. La paralisi bulbare progressiva colpisce il secondo moto neurone bulbare. E la sclerosi laterale amiotrofica colpisce il primo e il secondo moto neurone. La sclerosi laterale amiotrofica sarebbe quella che tutti conosciamo come SLA. Per quanto riguarda la clinica cominciamo anche qui differenziando le varie patologie. La sclerosi laterale primaria è una condizione in cui si ha deambulazione paretospastica. Una sindrome pseudobulbare con disartria, disfagia e labilità emotiva. Una compromissione ventilatoria molto tardiva e relativamente benigna. E una percentuale di evoluzione in SLA di circa il 25%. Quindi una sclerosi laterale primaria è una condizione clinica con questa deambulazione, ripetiamo, paretospastica molto caratteristica. Una condizione con questa sindrome pseudobulbare, quindi disfagia, disartria, labilità emotiva. E c'è questa compromissione ventilatoria tardiva, ma comunque benigna. E l'evoluzione, ricordiamo, ripetiamo ancora, è in sclerosi laterale amiotrofica. Di fatto, trattandola subito nel dettaglio, la sclerosi laterale primaria è una patologia con decorso graduale progressivo, dura decenni. Come abbiamo detto prima, colpisce il primo moto neurone. E si caratterizza, ripetiamolo per l'ennesima volta, per questa paraparesi spastica, poi divenente una tetraparesi senza fascicolazioni. Abbiamo, dal punto di vista obiettivale, una iperreflessia profonda e un Babinski positivo. Inoltre saranno presenti i segni bulbari, che sono quelli che abbiamo visto prima. Ovviamente, per quanto riguarda la diagnosi, dovrò escludere il coinvolgimento del secondo moto neurone. Quindi ricordiamoci, iperreflessia profonda e Babinski in aggiunta a quello che abbiamo già detto. Dopodiché, passiamo all'atrofia muscolare spinale, che come dicevamo prima, coinvolge il secondo moto neurone spinale. È caratterizzata da una clinica variabile, con esordio precoce e, anche qui, un decorso molto lento. Essendo una malattia progressiva del secondo moto neurone, può avere una presentazione varia. Quindi si parla di SMA, che sarebbe l'acronimo che designa l'atrofia muscolare spinale. Quindi Spinal Muscular Atrophy può essere, dicevamo, tipo 1, 2 o 3. Oppure 4, quindi l'1, il 2 e il 3 si comportano in maniera simile. Colpiscono i soggetti in età infantile. Non ci sono segni piramidali, non c'è atrofia, non c'è astenia. Ci sono queste fascicolazioni e c'è un frequente coinvolgimento bulbare, che avrà quella sintomatologia che abbiamo visto anche prima per la sclerosi laterale primaria. Quindi fondamentalmente disartria, disfagia e l'abilità emotiva. Perché quella è la cosiddetta sindrome bulbare. Quindi colpiscono l'asma 1, 2, 3, l'infanzia e constano di sindrome bulbare e fascicolazioni. L'asma 4, invece, colpisce gli anziani. È simile alla SLA, cioè la sclerosi laterale amiotrofica, però è più lenta. E raramente dà questa sindrome bulbare, raramente dà questo coinvolgimento bulbare. Quindi la differenza sta nei soggetti colpiti, nell'età, quindi anziani versus giovani, nelle SMA 1, 2, 3. È simile alla SLA e non c'è, a differenza della SMA 1, 2, 3, ripeto, coinvolgimento bulbare. A questo punto parliamo di paralisi bulbare progressiva, che di fatto è una patologia, ripetiamo, del secondo motoneurone bulbare. Il 25% di tutte le malattie del motoneurone di fatto è proprio una PBP, cioè una paralisi bulbare progressiva. E, peraltro, purtroppo si trasforma spesso e volentieri in una SLA, con sopravvivenza addirittura inferiore a quella della SLA. Quindi è una sindrome... dà una sindrome bulbare che è isolata e rimane isolata molto a lungo. Esordisce proprio con disertria e disfagia, appunto, la sindrome bulbare, anche con l'abilità emotiva, ricordiamolo. Ma dopo mesi e anni c'è un coinvolgimento anche degli arti. Quindi evolve, come dicevamo prima, in SLA, sopravvivenza inferiore e quindi il soggetto poi va incontro a morte, senza che ci sia possibilità di fare terapia. Concludiamo questo gruppo di patologie del motoneurone con la più importante e forse più conosciuta, cioè la sclerosi laterale ammiotrofica. Se la sclerosi laterale primaria riguardava il primo motoneurone corticale e l'atrofia muscolare spinale, così come la paralisi bulbare progressiva, riguardavano i secondi motoneuroni, la sclerosi laterale ammiotrofica colpisce gli uni e gli altri, quindi primo e secondo motoneurone. È la più frequente malattia neurodegenerativa motoria, esclusivamente motoria, ricordiamocelo. Il primo motoneurone è bene ricordare che si ha a livello della corteccia prerolandica e il secondo motoneurone invece si localizza, come sappiamo, nelle corne anteriori del midollo. Chiaramente c'è una progressione a paralisi dei movimenti volontari, con morte purtroppo dopo 3-5 anni, se va bene, dalla diagnosi. Il paziente dal punto di vista clinico avrà questa ipotrofia, ipoastenia degli arti, con coinvolgimento degli arti superiori, ricordiamolo, asimmetrico, come nel Parkinson. E un quarto dei pazienti ha una clinica bulbare con disarteria e disfagia, quindi ipotrofia, ipostenia degli arti. Il paziente manifesta deficit cognitivo soltanto nel 20-50% dei casi, ma più avanti vedremo che questa informazione viene di fatto smentita, perché essendo una patologia esclusivamente del motoneurone, sembra che in realtà il deficit cognitivo non debba essere considerato all'interno della clinica della SLA. Abbiamo invece caratteristici proprio della SLA, in aggiunta all'ipotrofia e all'ipostenia degli arti, anche la fascicolazione degli arti, o comunque di gruppi muscolari, sono brevi ma ripetute, e i crampi. Il soggetto va incontro a morte per insufficienza respiratoria. Entrando un po' più nel dettaglio, dal punto di vista epidemiologico, è colpito un soggetto ogni 10.000, è prevalente nei maschi di età superiore ai 60 anni, o comunque di circa 60 anni, e un 10% delle patologie appunto delle SLA sono familiari e presentano appunto una ereditarietà autosomica dominante con esordio precoce. Il fattore di rischio sembra essere la sportività del paziente, quindi un paziente molto sportivo è a rischio. E questo lo colleghiamo già alla patogenesi, che pur essendo ignota, basandosi proprio sull'associazione della patologia in soggetti sportivi, osserva come proprio in questi casi possa essere visibile un aumento del glutammato, che come sappiamo è neurotossico e quindi può essere conseguente, o comunque la conseguenza di un'eccessiva attivazione, con conseguente appunto motoneurotossicità in questo caso. Quindi ricordiamo, glutammatotossicità. La clinica già l'abbiamo accennata, adesso qui nel dettaglio definiamo tre forme in base all'esordio della SLA, cioè la forma classica, quella pseudopolinevritica e quella bulbare. Allora, cominciamo subito con il partire... Allora, noteremo che l'esordio, di fatto, nelle varie forme è progressivo in senso distale prossimale. Quindi cominciamo subito con la pseudopolinevritica, piuttosto che con la classica. La pseudopolinevritica dà un esordio agli arti inferiori. È seguito poi da una compromissione degli arti superiori e poi, in ultima analisi, c'è una compromissione bulbare più tardiva. Cioè, in poche parole, è come se la malattia salisse. Quindi prima colpisce gli arti inferiori, poi arriva gli arti superiori, come sintomatologia, poi colpisce anche... dà anche una sintomatologia da coinvolgimento bulbare. Però è comunque la patologia, l'esordio pseudopolinevritico, e quello associato a proniosi migliore, 6-7 anni circa. La forma classica, quindi quella cervicale cosiddetta, invece esordisce non all'arto inferiore, ma sopra all'arto superiore direttamente. E anche lì si evolve in senso, possiamo dirlo, distale prossimale. Cioè, sale subito a livello bulbare. Quindi prima c'è una compromissione all'arto superiore, poi si arriva a una compromissione bulbare. La proniosi non è buona come quella della pseudopolinevritica, ma è comunque di 4-5 anni. La bulbare, come ormai possiamo facilmente dedurre, ha invece un esordio subito superiormente, subito a livello del bulbo, e darà questa sintomatologia classica da sindrome bulbare con disfagia e o disartria. E ovviamente avrà la prognosi peggiore di tutte, quindi 1-2 anni. Quindi ricapitolando, la poli pseudopolinevritica è la migliore, ed è quella che esordisce più distalmente la classica a livello dell'arto superiore, la bulbare proprio direttamente a livello del bulbo. Quindi con una prognosi che peggiora man mano che si va dall'arto inferiore fino al bulbo. Segni e sintomi quali sono? Allora, sono dovuti alla compromissione rispettivamente del primo e del secondo moto neurone. Il primo è quello corticale, sarà associato a una riduzione del riflesso plantare e a un'assenza dei riflessi profondi. Quindi il coinvolgimento del primo moto neurone ha come unico segno positivo della sua manifestazione l'aumento dei riflessi osteotendinei. Quindi modificazione di segno negativo per quanto riguarda i riflessi plantari e quelli profondi che vengono ridotti e questi ultimi addirittura scompaiono, mentre i riflessi osteotendinei vengono accentuati. Il secondo moto neurone spinale dà traccia di Serling, in questa patologia, o meglio dà traccia del suo coinvolgimento da parte della patologia, con astenia, ipotrofia muscolare, quindi di arti e lingua, e fascicolazioni. Quindi quello che abbiamo già detto, astenia, ipotrofia, fascicolazioni. Poi qui smentisce un po' quello che abbiamo detto prima, perché dice che siccome comunque è coinvolto solo il sistema motorio, non c'è una sintomatologia sensitiva, non c'è un disturbo sfinterico, non c'è un disturbo della vista, non c'è alterazione del sistema nervoso autonomo e in teoria non ci dovrebbe essere nemmeno demenza, quindi è solo motoria, esclusivamente motoria. Per quanto riguarda la diagnosi, qui dice che bisogna escludere patologie simili, ovviamente, e fare una diagnosi differenziale con quelli che possono essere tumori, e qui ci aiuta la risonanza magnetica, che ci aiuta anche nel caso in cui ci sia una diagnosi incerta, e poi diagnosi differenziale anche con una situazione, una sindrome neurospondilogena, però il paziente qui ha dei sintomi sensitivi evidenti, che nella SLA, nuda e cruda, non sono presenti. La diagnosi viene comunque fatta con i criteri di L-scorial, che divide appunto la diagnosi come diagnosi certa, probabile, possibile. La certa si ha quando c'è una compromissione clinica, compromissione clinica del primo motoneurone e del secondo motoneurone in tre regioni, quindi la diagnosi è certa quando il primo e il secondo motoneurone sono compromessi in almeno tre regioni. La diagnosi è probabile quando sono compromessi primo e secondo motoneurone in almeno due regioni. La diagnosi è possibile, quindi è il grado di maggiore incertezza, quando c'è una clinica con compromissioni di primo e secondo motoneurone in una regione, oppure il primo motoneurone in due o più regioni, oppure primo e secondo motoneurone in una singola regione, però non c'è, senza coinvolgimento bulbare. Quindi tre, certa, due regioni, probabile, una regione in sintesi, possibile. Come si fa la diagnosi? Bastano questi criteri? No, bisogna sempre confermare con l'elettromiografia e questo perlomeno sempre. Raramente ci si avvale anche la risonanza magnetica, ma lo abbiamo già detto più che altro in caso di necessità di fare diagnosi differenziale, soprattutto con tumori. L'elettromiografia valuta un po' quelli che sono gli aspetti di denervazione attiva e di denervazione cronica. Nella denervazione attiva riscontra una potenziale di denervazione e un potenziale di fibrillazione. Nella denervazione cronica c'è una potenziale di unità motoria, di ampiezza e durata aumentati, quindi l'unità motoria ha questi potenziali aumentati, sia per ampiezza che per durata. C'è una riduzione dell'attività inferenziale, ma ignoro cosa sia, e c'è un'instabilità della potenziale delle unità motorie, quindi potenziale in sintesi. La denervazione cronica da questi potenziali elettromiografici che sono instabili e aumentati in ampiezza e durata, questo perché suppongo per mantenere l'effetto di controllo sul tono muscolare sia necessario mandare più impulsi dal momento che i neuroni sono di meno. La denervazione attiva invece, ripetiamo, dà potenziale di denervazione più potenziale di fibrillazione. L'elettromiografia, ricordiamoci, va fatta in almeno due regioni tra quella bulbare, quella cervicale, quella toracica e quella lombo-sacrale. Quindi almeno due regioni tra quella bulbare, toracica, cervicale e lombo-sacrale. La terapia non esiste, è una patologia che porta a morte nel giro di 4-5 anni. Il riluzolo, che è il massimo che siamo riusciti a inventarci, allunga la sopravvivenza sia o no di 2-3 mesi ed è un antagonista proprio dei recettori per il glutammato. Quindi l'unica strategia affrontabile è la terapia sintomatica per il miglioramento della qualità della vita. Quindi per la funzione gastrointestinale, un'apposita dieta, la modifica della consistenza del cibo e se fallisce l'una e l'altra faremo la PEG. Daremo un supporto respiratorio per la funzione respiratoria, per gli altri sintomi cercheremo di migliorare crampi, spasticità, sciallorrea, depressione, laringospasmo, insonnia e dolore.